Amedeo Aquatro, direttore sportivo degli Orizzonti Unite, possiamo dire che comincia una nuova era? Io penso proprio di sì, è giusto iniziare una nuova fase di questa società, che è una società che sta crescendo soprattutto nel settore giovanile, perché si contano quasi 400 tesserati e secondo me è giusto iniziare una nuova era perché noi i riflettori li vogliamo spegnere da addosso, perché è una società normalissima, è logico, ha un'ambizione di crescita, però questa crescita significa valorizzare i giovani del settore giovanile, cercare naturalmente di tenere questa categoria, perché è giusto, serve anche come futuro entusiasmo per i giovani che vengono da sotto, per raggiungere la prima squadra e secondo me noi iniziamo un nuovo campionato, è un periodo difficile, arriviamo da un periodo difficile, noi vogliamo la crescita di una nuova avventura. Un nuovo orizzonte per un nuovo orizzonte? Direi di sì, direi di sì, un nuovo orizzonte, hai detto le parole giuste, secondo me inizia un nuovo progetto, poi sarà il tempo che deciderà se abbiamo fatto bene o fatto male, però io dire mettere pressione a dei ragazzi di giocatore, un allenatore ai primi di ottobre, quando sai che è ad aprile che si tirano i conti, le somme, io direi che mi sembra un po' prematuro. Noi facciamo il nostro percorso, non vogliamo più guerre, battaglie, ma partite di calcio, noi andiamo come tutte le altre società la domenica a fare partite di calcio. Senti, un progetto che rinasce da una squadra che sicuramente il primo obiettivo è mantenere la categoria, ma soprattutto far crescere i propri giovani, visto che avete una junior regionale molto molto forte. Hai detto le parole giuste. Noi abbiamo già in estate puntato a un mercato per prendere i giovani, tanti 97 bravi, da far maturare, da dargli la possibilità di andare in prima squadra, infatti tanti si allenano in prima squadra, sperando di fare parecchi minuti in prima squadra. Comunque come dici te, è questo il futuro degli orizzonti, puntare sui giovani. Perché è una soddisfazione, penso di tutti, vedersi un ragazzo del settore giovanile in orizzonti, che va in prima squadra, fa bene, magari va in un'altra società più importante. E questo è il nostro ruolo. Noi non siamo le big che si sentono a dire in giro, siamo una società fatta di persone del posto, che fanno tanti sacrifici, che forse qualcuno non se ne rende conto, ma tanti sacrifici, e vogliono che alla domenica, soprattutto durante la settimana, la prima squadra sia un punto di riferimento anche per le famiglie che portano i bambini qua. Noi dobbiamo dare un esempio. Noi dobbiamo dare un esempio. Senti, hai parlato di pressione, probabilmente una pressione che ha influito in certe gare in maniera negativa sul temperamento dei ragazzi, sull'andamento della partita. Forse la nuova svolta può essere proprio quella, una tranquillità per giocare anche in maniera più tranquilla e poter, senza l'assillo del risultato, inserire man mano dei giovani. Sicuramente, cambiando obiettivo, la serenità viene automatica, è normale. Però non per questo si cambia obiettivo, uno dice teniamo la categoria e si va a fare pane e salame, come si dice in questi termini. No, noi teniamo la categoria, cerchiamo di fare il nostro meglio. È logico che con il reparto giocatori che abbiamo è riduttivo, non avere pressioni niente, sempre ci saranno, però noi non vogliamo, ti ripeto, basta riflettori addosso. L'Orizzonti è una squadra come tutte le altre, va in campo per vincere, prova a vincere, prova a fare bene e poi è sempre il campo che parla. Senti, una società che come abbiamo detto quest'estate ha avuto anche il fatto che ha avuto una sorta di accorpamento con il Real Canavese, quindi una società nuova e che deve essere costruita mattone su mattone, cominciando dalle fondamente per arrivare magari a fra qualche anno qualcosa di importante. Hai ragione, sono state messe delle basi importanti, come dici tu è una società nuova, ci vuole pazienza, si cerca di fare subito il meglio possibile naturalmente, faremo anche noi degli errori, è umano, sbagliare, forse qua nessuno se lo ricorda, ma sbagliare è umano, ok? Però qua c'è gente che ha voglia di fare bene, c'è gente che ci tiene agli orizzonti, mette cuore e anima e allora noi continuiamo il nostro percorso, poi il futuro dirà se la nostra linea che abbiamo preso sarà giusta o sbagliata. Quindi perdere non è più un dramma? No, direi di no, ma non è mai stato un dramma, non è mai stato un dramma. Forse con le pressioni che avevamo prima, perché è logico, dovendo vincerle tutte, automaticamente le pressioni ti arrivano addosso, gli occhi ce li hai puntati. No, adesso no, noi andiamo per fare il nostro meglio, andiamo per provare a vincere, perché giusto così ognuno è ambizioso, però la sconfitta non è più un dramma. Quindi una società il cui progetto è guardare al futuro, cercando soprattutto giocatori in casa, per fare un modello Atalanta, un modello Ajax, citando club importanti, dove la maggior parte dei giocatori arrivano dal proprio settore giovanile. Perfetto, hai detto proprio il nostro pensiero, il nostro nuovo pensiero, cercare di valorizzare i nostri giovani, cercare di prendere i giovani migliori in zona, anche fuori zona, perché è giusto che sia una società ambiziosa, ci mancherebbe, però noi è proprio il settore giovanile che deve essere la nostra fonte. Poi è normale, per tenere una categoria, lo sai anche tu, bisogna avere dei giocatori esperti, che servono per fare crescere i giovani in settimana, ci vuole uno staff tecnico preparato che insegna a questi giovani come si fa calcio, e poi penso che questo è il nostro futuro. Una società appunto che, basandosi su più comuni, può anche avere un bacino più ampio ed essere un punto di riferimento anche per i paesi vicini. Sicuramente, noi vogliamo essere il punto di riferimento, però come ti dicevo prima, un punto di riferimento deve essere anche che la prima squadra dia l'esempio, perché è importante e ci vuole anche una determinata categoria, perché il sogno magari di un ragazzino della Juniors è dire, vabbè se vado in prima squadra vado in eccellenza, e la gioco che è una categoria che si mette in mostra, normale. Orizzonti è una società d'eccellenza. Eh sì, hai ragione, perfetto. Parole giuste. Grazie. 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 Grazie.